Buona Pasqua! Valeria e Massimo sono contenti malissimo, e no infatti Valeria sta dietro le uova di Pasqua così non si fa vedere. Sai che voi faranno tolte le uova di Pasqua? Abbiamo questo mega gigante uovo fondente extra dark con sorpresa che immagino sarà bellissima. Due uova di cioccolato sicuramente buona da parte del nonno, attenzione, gira le uova senza far vedere Valeria dietro. Adesso c'è anche stella conturbante, Massimo è scappato perché non sta bene neanche lui, bellissima come sempre. Pronti per aprire il uovo di Pasqua? Stai tranquilla che ho girato il video, non ti si vede. Ok, pronti? Ci sei Elena? Ci sei Nico? Vai! E' gigante! Vediamo un po'? E voi, e voi? Non siamo non riusciti da qui perché... Io lo sto preso! Olè! Oh, ce l'ha fatta! E' spisso lui, guardalo! Mamma mia! Vediamo? No, è vero, è spesso! Ti voglio un pezzo subito! E' quella che sta al fondente! E' esaltante! Cos'è? Oh, un labilentino! Un labilentino? Ah no, il cioccolato! Non si vede il marchio? No, sì! Ah, non importa! Sì, te l'ho fatta! Ti è fatta? Sì! E' buono! Troppo facile! Anche se non mangio al fondente, posso un pezzo prima? Certo! Vai! Una figlia era? Bravo, Nico! Sono bravo! Apri, vediamo cosa c'è! Con il dente! Con il dente! Con il dente! Con il dente! Sembra il nuovo, il dinosauro! Sembra il dente! E' bello! E' bello! E' bello! E' bello! E' bello! No! Io l'avrei fatto! Bambini, non fatelo! Facciamo un atto di collaborazione! Yeah! Tu ce l'hai normale! Perché io ce l'ho così? Perché il tuo è un uovo di dinosauro! Da montare! Un uovo di dinosauro, va dentro! Tu, Elena? Ce la fai? Sono qui per l'uovo! Sì! Vai! Non c'è tutto da montare! Sì! Ha perso i capelli! Che è belata! Doviamo bene lo stesso! Buona Pasqua! Buona Pasqua! Buona Pasqua! Buona Pasqua! Buonasera! Buona Pasqua! Buona Pasqua!